Dai ragazzi, dai ragazzi, missione compiuta, si vola ai quarti di finale, si vola ai quarti di finale 0-0 al ritorno con le unghie, con i denti e anche con un po' di fortuna La fortuna aiuta l'audace, la Roma è stata audace e porta a casa questo 0-0 Partita brutta, ma non da parte della Roma, proprio in generale è stata una partita molto spezzettata, giocata poco, giocatori per terra Loro hanno fatto girare bene la palla, hanno creato due occasioni, una sul calcio d'angolo molto importante, un'altra al secondo tempo con il norvegese che veramente per me è una pippa, cioè io per me in Petagna è Van Basten in confronto al norvegese Orlot, credo e ho visto un David De Silva veramente incredibile ancora con i giocatori che, ecco perché io ancora prenderei Modric a quell'età perché quando i giocatori sono così forti a livello di David De Silva, sono forti pure a 36, 37, 38 anni perché è veramente un mostro ancora secondo me, il giocatore più forte della Real Società deve aver fatto poca roba Roma invece si è difesa bene con i tre centrali, i centrocampisti hanno aiutato i difensori una partita di sacrificio, una partita alla Murigno che voleva l'allenatore sicuramente se devo trovare una nota negativa è l'uscita la Roma non riusciva a tenere proprio palla, a fare tre passaggi in avanti e così diventa difficile, poi Real Società non è secondo me una grande squadra lo avevo detto anche prima che tutti avevano paura di stare al Società che è una buona squadra per carità del Dio, però era stata presentata secondo me anche un po' troppo il vero livello di questa squadra che è una buona squadra che gioca a calcio però secondo me non del livello, secondo me la Roma è più forte a livello proprio di impatto dei giocatori, di fisicità, però noi dovevamo portare a casa la partita noi avevamo un vantaggio importante all'andata e dovevamo portare la partita a casa come abbiamo fatto e conta il risultato, sapete con Mourinho soprattutto io giudico il risultato cioè il risultato va benissimo, 2-0, fra andata e ritorno, tutti a casa se è andato in uno stadio caldo non hai preso gol ripeto, non hai preso gol anche un pochino per fortuna ma fortuna fa parte del gioco, fa parte anche dei fluidi che c'è all'allenatore perciò va bene così ripeto, l'unica cosa, magari qualche uscita con i centrocampisti, gli attaccanti troppi passaggi sbagliati, abbiamo permesso di fare i partiti troppe volte poi troppe volte a loro però va bene ragazzi, va bene adesso c'è sto derby io dico una cosa ragazzi, invito tutti quanti a non prenderli per il culo fino a domenica per questa uscita della Conference League di tenere un profilo basso e non cominciare a dire a coppetta, burupu, 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 a piarli per il culo perché prima del derby a tre giorni non si fanno queste cose datemi retta, non si fanno, vi prego teniamo un profilo basso, ignoriamoli perché domenica c'è stata una partita che è importantissima per quanto riguarda la classifica dove la Roma non può permettersi di perdere nel derby può succedere di tutto la Roma sicuramente è un pochino più forte della Lazio secondo me però in una partita secca poi lo sapete può succedere di tutto loro giocano in casa non creiamo cose che ci possono anche portare un po' di sfiga come tante volte abbiamo fatto un passato non so se vi ricordate anche la cosa dei Sitelli tante cose una volta credo anche Totti ma adesso è successo che loro escono dalla Conference League però noi, almeno secondo me, io, da vecchio romanista ormai io preferisco fino a domenica un profilo basso poi dopo domenica ragazzi dopo domenica lo sapete come in tutti i derby dopo è lecito tutto quanto a livello sportivo a livello di gogliardia, a livello di spottò è lecito tutto però in questo momento, da parte mia, profilo basso lavoriamo abbiamo un po' dei giocatori acciaccati oggi botta a Kasdorp una botta molto importante e speriamo che recupera per domenica Pellegrini è ancora a mezzo servizio si è visto tante volte quando staccava di testa aveva un po' paura e Belotti pure ho visto cadere a terra col braccio un po' storto così perché non poteva mettere la mano a terra perciò abbiamo un po' delle situazioni così che vanno aggiustate però 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 speriamo bene ragazzi migliore in campo secondo me oggi Smalling mi è piaciuto tanto anche Ibanez e e Rui Patrizio Rui Patrizio che è stato molto sicuro anzi se devo dare la palma del migliore la do a Rui Patrizio per due o tre interventi che è stato molto bravo e molto sicuro forza Roma profilo basso piedi per terra calma che c'è il derby eh DAIE Dice sì 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 Grazie.